Benvenuti nel mondo Senturi. Senturi è un marchio di orologi di lusso svizzero con una storia di oltre 50 anni nel settore. Fondata nel 1966, l'azienda si è specializzata nella produzione di orologi di alta gamma, caratterizzati da un design innovativo e da una grande attenzione ai dettagli. I prodotti Senturi si distinguono per l'utilizzo di materiali di alta qualità, come l'oro, il diamante e l'acciaio inossidabile, che conferiscono ai loro orologi un aspetto elegante e sofisticato. Inoltre, l'azienda ha investito molto nell'innovazione tecnologica nel campo dell'orologeria, introducendo soluzioni tecniche avanzate come l'uso di zaffiri colorati e di movimenti automatici di precisione. Uno dei punti di forza di Senturi è la sua attenzione ai dettagli. Ogni orologio viene prodotto con una cura maniacale, con l'obiettivo di garantire la massima precisione e affidabilità. Questa attenzione ai dettagli si riflette anche nel design degli orologi, che spesso presentano elementi decorativi come diamanti, perle e altre pietre preziose. Tra i prodotti di punta di Senturi ci sono gli orologi da polso per uomo e donna, disponibili in diverse collezioni. Ad esempio, la collezione Senturi Diamond Time presenta orologi caratterizzati dalla presenza di diamanti sulla cassa e sul quadrante, mentre la collezione Senturi Automatic offre orologi con movimento automatico di precisione. Inoltre, Senturi ha sviluppato orologi con funzioni avanzate, come il Senturi Double Rotor, con due rotori automatici che garantiscono una maggiore precisione e affidabilità. In conclusione, Senturi è un marchio di orologi di lusso svizzero che si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, l'attenzione ai dettagli e l'innovazione tecnologica nel campo dell'orologeria. Grazie alla sua forte presenza internazionale, Senturi è apprezzato dagli intenditori di orologi per la sua artigianalità e la sua estetica elegante. Grazie a tutti.